Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 23 giugno 2022, sono le 7 precise, l'ora della rassegna stampa mattutina, vedremo insieme i giornali a partire dal resto del Calino e il Corriere Adriatico sulle pagine locali, le pagine della nostra regione e vediamo subito, iniziamo subito il nostro colloquio con l'almanacco del giorno, almanacco del giorno vediamo che oggi si festeggia San Lanfranco Beccari, San Lanfranco Beccari nacque a Pavia nei primi decenni del 1100, fu vescovo della sua città e si distinse in modo particolare perché cercò di ricomporre le contese tra Guelfi e Ghibellini, che allora erano molto vivaci e spesso sfociavano infatti di sangue, durante la sua vita gli furono attribuiti molti miracoli, tra cui molte guarigioni e anche alcune liberazioni di prigionieri che ricorsero alle invocazioni del Santo appunto per essere liberati e così proprio avvenne. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo, intanto diciamo che il sole questa mattina è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.55. Il tempo si mantiene stabile su tutta la regione, non abbiamo parvenze di pioggia e questo da una parte è bello, ma da una parte è anche brutto perché poi vedremo sui giornali come la siccità costituisce un vero problema per la nostra economia. Cieli poco nuvolosi e in serata, possibili piovaschi si spera, ma sull'Ascolano. Temperature massime fino a 36-37 gradi, più contenute però sulle coste dove spirerà una brezza. I venti spireranno da una direzione media ovest, diciamo così, presso a poco e così anche sull'interno non ci sono variazioni tra costa e dentro terra. Ed ora apriamo i giornali a partire dalle prime pagine del Corriere Adriatico. Eccola qui e vediamo come si parli proprio di acqua, un desiderio di acqua che si estende su tutta la regione Marche. Acqua non c'è più tempo. Il nuovo invaso, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Tiviroli, richiama i sindaci e richiama l'Ato. Occorrono nuovi contenitori per preservare le riserve d'acqua. Si rompe poi l'acquedotto anche a Rociano, l'acquedotto che conduce l'acqua del Metauro verso Pesaro. Però i tecnici sono intervenuti con un ripristino record e poi scatta l'alarme per le piscine. È difficile riprodurre, attuare, anzi rifornimento d'acqua. La regione adesso prepara un'ordinanza per uniformare i razionamenti su tutto il territorio regionale. La fotonotizia è dedicata invece allo sport. Vediamo che l'AVL per tre anni ha firmato un contratto con Repesa. Il ritorno del coach, il quale ha firmato. E poi vediamo le notizie di centropagina, richiamate dal Corriere Adriatico. Pesaro, per la pista ciclabile dedicata a Pantani, si offrono 100 ditte. Riapre la spiaggia riservata ai cani a Baia Flaminia. E poi una notizia di cronaca. Un fratello non molto amabile nei confronti della sorella le ha svuotato il conto e ha ricevuto una condanna di 26 metri. Terzoni saluta e va da Di Maio con Conte. Niente svolta. I giornali si occupano anche delle decisioni dei Cinque Stelle locali per quanto riguarda la scissione di Di Maio. Poi vedremo come si sono comportati. E poi un secondo raid vandalico all'asilo. Cento croci. Ebbene, forse sono dei ragazzini, piccole bande di piccoli delinquenti. Ma è difficile anche chiamarli così. Non hanno fatto un granché. Però è preoccupante il loro atteggiamento. Invece le aperture sul resto del Carlino per quanto riguarda le prime pagine si riferiscono ad episodio di cronaca. Ladri in casa li ho messi in fuga. Ebbene si è accorto che degli estranei tentavano di entrare nel suo appartamento. E questo pesarese ha cominciato a fare fracasso. I ladri ci sono spaventati e sono fuggiti. E qui vediamo Repesa in un atteggiamento proprio vehemente. Si è scaldato in questa partita. E lo vediamo qui incitare i suoi. La scissione di Di Maio. I Cinque Stelle non si muovono. Rilanciamo il movimento. Restano fedeli a Conte. E poi l'allarme si cita. E l'assessore regionale Aguzzi. Stop agli sprechi. I comuni intervengano. Al Benelli cresce anche la lattuga. Rifare il campo prima di tutto. Almeno lì la lattuga cresce in altri posti. Invece come negli orti la siccità la brucia. Torna a Discodiva l'estate. A Gabicce Mare tutta dense. E poi in Piazza Redi a Pesaro. Il boss della Baby Gang si sono pentito. Ha detto. E aveva insomma furoreggiato nei dintorni di Piazza Redi. E ha ricevuto una condanna. Per quanto riguarda non in carcere. Ma ai servizi sociali. Il sigillo dell'Ateneo. Uno dei più ammiti e riconoscimenti. Della Università d'Urbino. È andata a un campione dello sport. Non un atleta in questo caso. Ma ad un coach. Ad un allenatore. Come Mazzanti. Che ha ottenuto con la sua squadra. Dei risultati eccezionali. Ebbene restiamo sul resto del Carlino. E apriamo il giornale. Sulla pagina di Fano. Vediamo l'apertura. Questi giorni a Fano. Si svolgono tutte le manifestazioni di passaggi. Ebbene una concentrazione simile. Sta richiamando turisti. Un po' vacanzieri. Un po' da tutte le regioni d'Italia. Turismo. Boom di presenze. Nulla da invidiare a Pesaro. Parla così. L'assessore dedicato al ramo. Etienne Lucarelli. Il quale stila un primo bilancio. La stagione partita in maniera esemplare e dinamica. Tra sport, cultura in città. E un pienone ha dichiarato. E in questo caso Fano si è contraddistinta ancora una volta per la sua dinamicità culturale. Si è confermata come un territorio molto attento alle proposte culturali e musicali. Non abbiamo nulla da invidiare a Pesaro. Lo ha detto Lucarelli. Con passaggi festival della saggistica e boomerang rewind festival. Nel weekend appena trascorso la città della fortuna ha visto partire la stagione estiva in maniera molto dinamica e molto attrattiva. E vediamo qui veramente nelle fotografie i pienoni che si stanno realizzando tanto in spiaggia quanto in centro storico con le iniziative di passaggi. L'altra notizia riguarda le polemiche scaturite dalla decisione sul biodigestore. Ebbene intervengono in questo caso esponenti, anzi consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione. Sì, anche di maggioranza. E tra queste infatti c'è Giampiero Pedini che sostiene la Giunta ma non è d'accordo sulla decisione di realizzare il biodigestore. Così come è stato evidenziato nei giorni scorsi. Giampiero Pedini si dice pronto a uscire dalla maggioranza se la proposta dovesse arrivare in Consiglio Comunale. E poi ci sono prese di posizione anche dei socialisti. Tiziano Busca del PSI dice che la proposta di accordo ASET-Feronia-ACEA è irrecevibile per il Consiglio Comunale in quanto contraria alle due mozioni approvate con il voto anche dell'opposizione e della maggioranza insieme. Ebbene se Giampiero Pedini fa parte del Consiglio Comunale Tiziano Busca no, ma è un portavoce esterno di un partito che fa sentire la sua voce. E poi abbiamo Cora Fattori che esprime le posizioni della lista Azione più Europa. Dice che leggere sui giornali l'esito della manifestazione di interesse è brutto perché nessuno dei consiglieri era stato avvisato prima. Insomma, ma dov'è a questo punto la Commissione Garanzia e Controllo? Invece Enrico Fumante, espressione del Partito Democratico, dice che con la decisione che è stata assunta si aprono le porte ad una società non del territorio che cala nella nostra provincia, spinta solo da motivi finanziari. Insomma, ci sono posizioni molto divergenti e questo argomento continuerà a fomentare discussioni ancora per molti giorni a venire. E parliamo ora del festival di passaggi. Passaggi ogni giornata un pieno in tutte le palcoscenici che sono stati allestiti in città. La piazza, il Pincio, San Francesco, il Portico delle Benedettine. Insomma, ogni iniziativa richiama moltissima gente. In programma oggi c'è Nando della Chiesa per commemorare il trentennale della strage di Capaci. Alle ore 21, in piazza 20 Settembre, Nando dalla Chiesa parlerà del suo libro Ostinati e Contrari, la sfida alla mafia nelle parole di due grandi protagonisti e non possono essere che Giovanni Falcone e Paolo Borsellini. E poi vediamo che in questo articolo molto molto esaustivo, scritto da Tiziana Petrelli, come si festeggia un mezzo secolo di attività della Dago elettronica. Una ditta che è nata nel territorio da una società costituita da quattro insegnanti del Volta, che poi si è fermata e difende il sistema della sicurezza in modo con una tecnologia veramente avanzata. Ed è una ditta che si è fermata e ora conta 56 dipendenti. Eccola qua, invece vediamo la grande rotatoria del Codma, che sta prendendo forma l'incrocio micidiale, dove si sono verificati tanti incidenti. Ora viene regolato con un nuovo sistema viario. I lavori stanno giungendo a un buon punto di realizzazione. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di chiusura della strada. Da domani il traffico potrà riprendere appunto su questo incrocio cruciale della viabilità affanese. L'assessore Tonelli, un'opera significativa che regolerà il traffico e garantirà la sicurezza, ha dichiarato. Passiamo ad Urbino. Non conta avere trofei, conta restare alunni. E eccolo qua il titolo, non ve lo facevo vedere, eccolo qua. È una dichiarazione di Mazzanti, Davide Mazzanti, il commissario tecnico della Nazionale Femminile, cui è stato attribuito il sigillo dell'Ateneo. Come dicevo, è il più alto riconoscimento della università che viene dato alle più grandi personalità che si distinguono nel mondo della scienza, della cultura, dell'arte, insomma in tutti i campi del sapere umano, compreso quello sportivo. L'ex studente di Urbino, ecco perché Mazzanti parla del bello di restare alunni, si ritrova a casa. È un cerchio che si chiude nella città in cui si è aperto 24 anni fa. Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo, campione d'Europa, è stato insignito di questo bel riconoscimento in una cerimonia importante che si è svolta nella città di Urbino. E intanto continuano le polemiche sulla soppressione della diocesi, ovvero sull'incorporamento della diocesi di Urbino su quella di Pesaro. Sul Vescovo si crea una frattura insanabile e a insorgere sono anche alcuni sacerdoti, come Don Fabrio Brica di Mercatello. L'Arcidiocesi di Urbino chiede un nuovo arcivescovo, questa volta ad affermarlo è un sacerdote. Don Fabio Brica di Mercatello, parroco di Borgo Pace e profondo conoscitore della realtà dell'alto metàolo. Molti, ha dichiarato il sacerdote, si rammaricano che non c'è stata e non c'è la possibilità di interloquire con il Vaticano, con le istituzioni, che hanno assunto una decisione completamente senza alcun confronto, quindi completamente estranea alla volontà del popolo, che è rimasto sorpreso di quanto deciso. E appunto per questo sorgono le proteste. A Urbino si tiene un importante appuntamento, un convegno di oncologia. Oncologia a confronto a Urbino dopo Chicago. Domani al Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica, alle 9.30, si terrà il convegno internazionale From Chicago to Urbino, update in oncologia, un format post-congressuale giunto alla dodicesima edizione, che prende le mosse dal Congresso annuale della Società Americana di Oncologia Clinica, l'ASCO, il più importante nel panorama oncologico mondiale che si è svolto a Chicago il 3 giugno scorso, dal 3 giugno al 7. E poi vediamo la cerca del tartufo, ufficialmente nel patrimonio UNESCO, alla presenza del sottosegretario Lucia Bergonzoni, è stato consegnato l'attestato ufficiale alla comunità dei cavatori. Ebbene, la cerca del tartufo, questa attività molto molto particolare, che per praticarla occorre veramente essere esperti, quindi studiare il territorio, le abitudini, il rapporto con il cane e via, dicendo, ha assunto un livello anche culturale e questo promuove ancora di più il nostro territorio. Vediamo ora le pagine pesaresi del resto del Carlino che iniziano con l'esame d'estato, la prima prova che si è svolta ieri, il tema di italiano, dalla musica al libro della Segre sulla Shoah. Alcune tracce erano previste e azzeccate dagli allunni, comunque non è stata semplice, è stata dura, hanno dichiarato alcuni. Però qui vediamo in questa pagina i volti sorridenti degli studenti usciti dalla prova di esame e speriamo che il sorriso denoti anche un successo dello scritto. I sorrisi dei ragazzi pesaresi, dopo la prima prova scritta, in molti hanno scelto il tema su Oliver Sacks e la sua musicofilia, ma parecchi hanno puntato anche sull'attualità del Covid e l'importanza della scienza. Quanta emozione hanno dichiarato ed è solo l'inizio. Ebbene, alla emozione degli studenti si è accompagnata anche quella del preside Rossini, il preside del Marconi, il capo dei presidi, il quale interviene sul post-Covid. Quanta energia in questi ragazzi che hanno veramente superato dei periodi molto delicati, molto critici per quanto riguarda gli studi. Riccardo Rossini finalmente dice tutto è tornato come prima e gli studenti hanno saputo mettersi in gioco. Bravi, bravi tutti, anche quelli che magari tentennano un po' negli studi, ma il coraggio è stato un leitmotiv che ha caratterizzato tutti. Ed ora qui vediamo l'insalata, non è l'insalata, è il campo di lattuga, scarso drenaggio. Per quanto riguarda il Benelli bisogna intervenire sul Prato prima di tutto, è l'appello dei tifosi ed è la società, un appello rivolto al Comune. Bene la tribuna Prato, ma dopo il terreno di gioco non assorbe più acqua, ci sono avvallamenti e l'erba muore, così non si può stare nei professionisti. Fare dunque il nuovo Prato e poi il campo significa spendere due volte. Il perimetro va avvicinato alla tribuna centrale. Questa è un po' la richiesta appunto dei tifosi. E qui vediamo le scelte dei 5 Stelle per quanto riguarda la decisione assunta da Di Maio. Nessuno con Di Maio degli esponenti del nostro territorio. Restiamo nel movimento, questa è la decisione che è stata assunta. Gli eletti della provincia non seguono il ministro dopo la scissione. Il consigliere regionale Marta Ruggeri però ora ripartiamo dal basso. Restiamo fedeli al nostro programma, alle nostre decisioni iniziali e non facciamo, non intraprendiamo nuove avventure. Ebbene, condividono un po' questo assetto il deputato Roberto Rossini. Andrea Cecconi che a sua volta è stato espulso dai 5 Stelle e anche Francesca Frenquellucci che è l'assessore comunale appunto a Pesaro e poi Marta Ruggeri consigliere regionale esponente fanese. Veniamo alla cronaca. Ho messo in fuga i ladri con urla e pugni un tentato furto nella notte scorsa in uno stabile tra Piazzaredi e Monte Granaro. Il proprietario era sveglio per caso e per fortuna e ha iniziato a gridare a fare rumore non appena visto delle figure sospette muoversi all'esterno della propria abitazione. Si tratta di un sessantenne residente appunto in zona Redi che ha sventato un furto proprio dando in escandescente mettendo paura i ladri che stavano per penetrare nel proprio appartamento e se ci fossero riusciti non so come sarebbe finita ha dichiarato il pesarese. Un amministratore di sostegno fa sparire 20.000 euro nel conto della sorella ed è stato condannato a una pena di due anni e due mesi. Il giudice gli aveva dato 45 giorni per restituire i soldi si tratta appunto di 20.000 euro ma l'uomo non li ha trovati si tratta di un 55enne che ha speso i soldi della sorella poi non l'ha risalcita e quindi è finito in caccere. Guida ma non ha la patente una multa veramente sonora 5.100 euro si tratta di un senegalese che è stato sorpreso sprovvisto di documento dalla polizia è stato sequestrato il mezzo si tratta di un uomo di 53 anni che è appunto stato sorpreso dalla volante della polizia e sanzionato sanzionato in zona Baratov con una multa veramente sonora e qui vediamo la confessione del capo della baby gang che ha patteggiato la pena di due anni si tratta di un diciottenne abbiamo visto la notizia anche nei quotidiani di ieri e un diciottenne che aveva imperversato su piazza Redi sono pentito ha dichiarato il ragazzo un colpo di testa che ha poi indotto il giovane alla riflessione ed ora cercherà di cambiare strada almeno così ha promesso ancora Rocca Costanza in condizioni indecorose la denuncia è di Bettini esponente del quartiere centro e di Fratelli d'Italia erba alta nel fossato incuria e rifiuti il comune non interviene e a pensare che Rocca Costanza è il monumento più significativo della città realizzato appunto da un esponente importante per quanto riguarda il Medioevo gli sforza che governavano la città è il monumento più significativo più rappresentativo vuoi per il carattere strutturale come opera difensiva vuoi anche per la strategia per la politica che gli sforza hanno condotto a partire dalla città di Pesaro che ospitava a suo tempo anche Lucrezia Borcia ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico abbiamo visto la prima pagina vediamo la pagina di Fano l'apertura è dedicata all'ambito sociale è un'iniziativa di carattere sociale sotto due aspetti vediamo il sostegno dei disabili gravi un sostegno che beneficia 144 richieste di aiuto e poi l'altro settore che viene beneficiato è quello degli inquilini morosi incolpevoli chi sono gli inquilini morosi incolpevoli sono coloro che non riescono più di punto in bianco a sostenere l'onere dell'affitto l'hanno sempre pagato ma poi per fatti eccezionali intervenuti improvvisamente come per esempio un licenziamento dal lavoro oppure una grave malattia non sono più riusciti a pagare l'affitto e quindi sono diventati morosi ebbene non è loro colpa cercheranno ovviamente di rimediare in futuro ma intanto nel presente il comune grazie poi alle providenze regionali giunge loro in aiuto erano 23 le domande che erano state avanzate solo 8 quelle accettate perché rientravano poi nei parametri previsti per l'ottenimento del contributo le altre 15 sono state scartate abbiamo avuto il coraggio di promuovere la difesa di Aset intervengono fratelli d'Italia e Lega dopo l'anomala maggioranza che ha definito il percorso del biodigestore abbiamo visto come in questo settore in questo argomento le posizioni siano molto diversificate sia all'interno che all'esterno della maggioranza e poi un altro problema la strada delle barche una soluzione superata i suggerimenti di Tiziano Busca Tiziano Busca abbiamo visto anche per quanto riguarda il biodigestore ora interviene anche per quanto riguarda la strada delle barche un progetto che è in campo da anni si può dire non è stato ancora realizzato prima c'erano dei soldi ora non c'erano più ora bisogna riaverli insomma il regresso è piuttosto complicato e vediamo cosa dice Tiziano Busca quel tratto di mare quello delle brecce sta diventando uno dei più belli lungo la costa fanese grazie all'effetto prodotto dalle scogliere e quindi bisogna rivitalizzarlo la strada delle barche probabilmente starà per diventare anacronistica e poi c'è una caratterizzazione scandita dalle spiagge libere non sovraccariche di ombrelloni e chioschi un altro dato che qualifica l'ambiente della zona e poi nella parte interna le scogliere ci vorrebbero ponti mobili solo durante il periodo estivo dove permettere la discesa a terra per la traccia delle piccole imbarcazioni però bisogna cancellare quei camping camper di cui ancora non si sono ben capiti i servizi alla sosta secondo appunto l'esponente socialista questi camper camping che sono a metà strada tra un camping e un luogo di sosta dei camper sarebbero un po' un segno di degrado e guardate come si rimedia le buche della città invece di coprirle ci si mette sopra un cestino porta rifiuti è accaduto al Lido un porta rifiuti per occultare la buca al Lido ha rattoppato invece il grande cratere di Viale Colombo probabilmente non c'era un cestino di rifiuti tanto grande per coprire tutta la buca e poi abbiamo una presa di posizione delle associazioni ambientaliste per quanto riguarda il progetto dell'amministrazione comunale di realizzare un bosco all'aeroporto sì bello questo bosco dicono le associazioni ma non si può sbagliare e vogliono essere coinvolte nella scelta appunto dell'essenza arborea del progetto dell'esecuzione del progetto per essere appunto attente alla esigenza non solo appunto così estetica di quello che avviene ma anche per quanto riguarda la natura del luogo e appunto la scelta delle piante un mare di rose per dire addio a Michele e Giovanni Ascione padre e figlio che sono periti nel corso dell'incidente terribile incidente stradale che si è svolto domenica scorsa lungo l'autostrada 14 all'altezza di Marotta ieri si sono celebrati funerali nella chiesa di Lucrezia una chiesa affollata di gente dove le due bare sono state affiancate ai piedi dell'altare c'era tanto dolore tanta commozione perché queste due figure che non erano originarie del nostro territorio erano napoletane ma si erano così integrate non solo dal punto di vista lavorativo sociale eccetera ma anche dal punto di vista sentimentale attivando tante tante amicizie ebbene con questa notizia noi concludiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20 e 30 di questa sera con occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto